Torna subito al successo l'Amen Scuola Basket Arezzo che dimentica la sconfitta di Carrara superando l'audace pesce al termine di una gara equilibrata chiusa sul 72 a 65. Fin dalle prime battute di gioco gli Amaranto provano a scrollarsi gli avversari che si presentano ad Arezzo recuperando l'ex di turno Mugnai che pur in non perfette condizioni fisiche ha dato il suo contributo alla formazione pesciatina. Ottimo l'impatto del playmaker Guidi che mette a gefarto 9 punti nel primo quarto dopo il 18 paghi dei primi 10 minuti di gioco. L'Amen con Fratini e Gramaccia si costruisce un mini a lungo anche perché Cempini segna solo 6 punti nella prima parte di gara tanto che la SBA va all'intervallo lungo avanti 33 a 28. A rientro dagli spogliatori primo strappo a Gettino con L'Amen che arriva fino al più 10 42 a 32 prima che Guidi e Cempini rimontassero punto su punto fino alla 48 paghi della mezz'ora. La difesa retina non è quella attenta delle prime uscite così sono le giocate in attacco di Cutini e Fratini affiancate da due invenzioni da tre punti di Carlo Provenzal che danno il colpo del K.O. uno stanco pescia. L'ultimo ad arrendersi tra gli ospiti è proprio Cempini che chiude la gara con 26 realizzati e 10 rimbalzi ma i due punti sono dell'Amen che si conferma così al secondo posto in classifica alle spalle dell'imbattuta Labronica Livorno. Domenica scontro diretto in chiave alta classifica a San Vincenzo contro una squadra in salute che ha subito alcuni infortuni che ne hanno limitato il rendimento a metà del girone di andata ma che ora si è rilanciata in zona playoff. Che partita è stata quella di oggi dopo la debacle di Carrara? Una partita comunque difficile perché loro sono una buona squadra anche se giocano in sette non di più però comunque si hanno nel reparto offensivo soprattutto due giocatori tre che hanno sempre militato in categoria superiori da protagonisti non da ottavi o noni quindi una partita era difficile lo sapevamo ci siamo preparati bene e l'abbiamo affrontato anche bene perché comunque sia nonostante alcuni momenti di difficoltà però siamo stati bravi a rimanere sempre in partita e a portarla a portarla poi a portarla a casa. Dal punto di vista della concretezza è stato veramente se è stato l'asso della manica? Beh l'asso della manica anche un po' troppo però... Hai contribuito in maniera egregia? Grazie e comunque sì è importante gestire la squadra è importante essere organizzati anche nei momenti di difficoltà nelle partite precedenti abbiamo avuto qualche momento in cui giocavamo meno insieme magari un po' più individualmente ma questa volta, questa sera siamo riusciti a evitare questo periodo di 3-4 minuti e abbiamo giocato bene tutta la partita. Grazie a tutti.